buongiorno dalla rassegna stampa di tef channel il messaggero europei l'italia mette paura alla spagna questo è il titolo di apertura bellissimo gol di natale poi insomma la reazione rabbiosa nel giro di qualche minuto la spagna raggiunge l'italia poi è stato veramente un pressing costante da parte dei campioni del mondo abbiamo tenuto benissimo probabilmente non ci aspettavamo una nazionale così che fa ben sperare per il resto degli europei in bocca al lupo agli azzurri di natale gol pari di fabregas azzurri alla pari dei campioni napolitano negli spogliatoi bravi e ugo trani che scrive bentornata nazionale di vincenzo cerracchio a centropagina invece madrid alla prova dei mercati la richiesta di aiuti presentata tra dieci giorni ragioi ragioi non è un rai anzi e non è un salvataggio ansia per bolse borse spread ren dall'unione europea un chiaro messaggio nigeria ancora un attacco dei kamikaze strage di cristiani riforma i partiti il tempo perduto la legge elettorale vincenzo lippolis fa il suo editoriale che però è messo più in basso sotto la notizia dell'italia chiude il ristorante della camera tutti al self service ma con le ostriche vabbè andiamo avanti perché più guardiamo e leggiamo di quei signori che stanno il parlamento e più ci indigniamo mi immagino che sia un po per tutti quanti così voglio vedere se trovo la nazione nazionale faccio un po di fatica eccolo qua sono tanti giornali e qui vedete festeggiamento dell'italia pareggio con la spagna campione del mondo 1 1 questa della nazione guardiamo a sinistra la partita più difficile e gabriele canè ma parliamo di ben altra cosa lorenzo non c'è più ma merita il diploma massa il preside ai funerali notizia toscana bocciate in prima elementare è rivolta pontremoli scontro fra genitori e docenti davvero se sono se una cosa del genere accade la colpa non è di quelle di quelle creature cioè in prima elementare uno non può essere bocciato perché è evidente che c'è una gravissima lacuna da parte degli insegnanti mamma rapinata davanti alla bambina è successo a bastia un terrore in un parcheggio stata pestata ha dovuto mettere dei punti di sutura nella testa per fortuna i carabinieri della compagnia comando di assisi insieme a quelli di bastia hanno arrestato subito questo personaggio un napoletano la picchia appunto con la pistola davanti alla figlia per rubarle la borsetta con 100 euro ma fosse stato anche un mille sarebbe stato gravissimo lo stesso esordio promettente per l'italia contro la spagna gp del canada vince hamilton alonso no solo quinto bollini e in poll è l'allenatore che piace al gubbio in poll position il sogno delle fere è papa valgo corre tanto e segna il perugia stringe sul portiere ultimo tentativo con bremec questa è una colonna di spalla dedicata interamente alla allo sport al calcio il cardinal bagnasco ad orvieto fedeli in sessione anche a perugia la l'infiorata migliaia le infiorate in coda per ammirarle spello andiamo avanti taglio medio aggredisci di rimpettai con un coltello successo a perugia un francese in manette per ferite causate da due suoi vicini di casa andiamo in basso vediamo sinistra cosa c'è aziende in crisi a rischio 500 posti di lavoro a terni e la denuncia della conata il giornale dell'umbria lungo corteo con bagnasco che elogia la centralità reggiosa di orvieto poi notte brava dei liceali quartiere a soquadro a perugia l'accusa di crepe ai genitori ma sa crepeva che lo scusa con tutto il rispetto che ho per la professione ma è un po troppo mediatico e troppo poco psichiatra secondo mio punto di vista credito in umbria la forte stretta c'è i numeri verità in anteprima il rapporto di banca italia questa mattina sarà presentato e non si sa come riescono ad averlo già in anticipo quelli del giornale euro 2012 tutto un dire come abbiano fatto però insomma lo hanno fatto bravi loro l'italia non trema c'è capitano buffon 1 1 l'esordio contro la spagna lavori pubblici 350 opere ancora da finire ci sono pure quelle mai cominciate i box saian con gli strilli perugia permessi a costruire rimezzati foligno appalto musei verso misure d'urgenza foligno spoleto le piscine e i campus estivi poi perugia vespe calabroni decine di interventi le zone a rischio perugia aggressione a colpi di coltello arrestata a 28 anni poi bastia mamma rapinata al supermercato con la figlia di 5 anni ecco qui guardate tagli alla spesa monti accelera l'obiettivo è reperire obiettivo reperire 4.2 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'iva ad ottobre speriamo festar chiude alla grande il capoluogo umbro per quattro giorni capitale della architettura vediamo se ci sono altre notizie si è leonardo varasano con l'opinione il benessere delle piante un modello per l'uomo vediamo ancora cosa possiamo prendere il messaggero no vorrei quello locale un attimo perché sono tanti giornali del lunedì mattina eccolo qua messaggero locale finisce in ospedale per mobbing crisi di panico per l'offese sul posto di lavoro costretta al ricovero michele milletti che scrive perugia una donna di 47 anni portata a pronto soccorso dopo le minacce in ufficio una cosa vergognosa una cosa davvero vergognosa pavola donna ragazzini drogati spaccano vetrine tra l'altro ce n'è stata una anche nelle ultime ore la vetrina spaccata di via oberdan nel centro di perugia dopo un sabato notte a tutto sballo qui federico fabbrizi corpus domini bassetti oggi siamo in tanti ma a messa viene poca gente marco brunacci credito edilizia ma anche il piano per la ricerca dell'università sono gli stati generali dell'economia rapidamente a centro pagina litiga con i vicini lì a coltella perugia fratello sorella aggrediti all'alba da un'amica ubriaca e gre priolo scrivere quando l'orco vive sotto lo stesso tetto cure per due donne picchiate dai compagni auto impazzita sfiora al bar dei tifosi dell'italia un vertido è successo la spalla l'abbiamo detta che era di marco brunacci e quindi andiamo a guardare come siamo soliti fare ogni volta che guardiamo il messaggero locale la grande estate comincia metà settimana mi sembra un po il gioco no rimandiamo cominciamo la dieta no la comincio sempre da lunedì è una cosa del genere purtroppo sono un po di giorni che gilberto ci dice che l'estate arriva l'estate arriva l'estate arriva insomma se nel perugino date un'occhiata fuori se non siete già usciti vi accorgerete che di estate c'è ben poco comunque l'angolo del meteo meteo di gilberto scalabrini la nazione locale apre con pedalo con il cuore fino all'urda da assiste santuario in bicicletta comincia il viaggio di luciano in sella per battere la malattia luciano gozzi luciano gozzi persona straordinaria lui è stato un ex carabiniere il servizio di daniele cervino che è una malattia molto importante la come dire battuta viva dove danilo i civillini a setaccio per regione scomparso notti violenti a coltello a due fratelli in manette ultra sballato arrestato con la droga allo stadio e poi qui aggredita non l'aggressione della mamma rapinata davanti alla figlioletta bandito assalto e picchia con la pistola una donna preso dai carabinieri bravo il capitano andrea pagliaro con i suoi uomini sbanda con l'auto e rischia di travolgere i tifosi al bar andiamo a guardare adesso credo che possiamo sì cominciare a osservare i giornali dello sport eccolo qua giornale ubria sport un italia senza paura ferma le furie rosse il senza paura proprio rosso e guardate qui un attimo di gioia non ha funzionato bene mario balotelli si è mangiato un gol diciamocelo chiaramente non puoi pensare di prendere il pallone agli spagnoli di arrivare fin sotto la porta e non e attenderti che qualcuno ti dica che sta arrivando qualcuno a tue spalle l'esperienza ti dovrebbe insegnare che un una squadra tutte ma una squadra particolarmente forte come quella della spagna non ti permette di arrivare fino al al portiere senza contrastarti e così è stato il gol se l'è mangiato sarebbe stato il gol vittoria tutti gli effetti la nazionale di prendelli brilla al debutto il gol gol nella ripresa di natale spaventa la spagna che poi si salva con fabregas napolitano orgoglioso di questi ragazzi totò al settimo cielo il mio gol più bello ancora avanti con i giornali cerchiamo il messaggero sport toscano una sfida chiamata serie b per la prima volta affronterà una categoria piena di incognite lanciano e provercelli le ultime promosse nella serie cadetta che ospita tante squadre blasonate torneo interforce stasera c'è la finale è umbria sport qui in basso campitello l'addio di proietti al suo posto arriva romoli e antonio de angelis a scrivere poi staffetta dei quartieri vince ancora olmo e siamo ad orvieto corriere umbria sport subito qui in alto forse un po faticata questa mattina si purtroppo non funziona bene il troppo troppo pesante bisogna che avvisiamo i nostri gentili colleghi che ci mandino una versione pdf più leggera ecco qui vamos andiamo in spagnolo gli azzurri in vantaggio con di natale la spagna risponde con fabregas è una bella italia ma balotelli delude quello che vi dicevo poco fa speriamo che sia solamente l'effetto come dire giochiamo la prima partita con una grande squadra quindi sono agitato però si è mangiato un gol balotelli alonso infuriato solo quinto la ferrari sbaglia tattica storica doppietta misano biaggi sempre più leader ginestra vuole perugia gubbio castori o bollini vediamo ancora se abbiamo altre cose no ci sono c'è la pubblicità vediamo se il corriere dell'umbria è sceso giù forse qualcosa la possiamo darvi benissimo feridea papa vaigo il senegalese in pol per l'attacco rosso verde tempo di firme al foligno al falco al falco per scattare l'era zampetti damaschi voi sapete che roberto damaschi è al foligno un rapportiere il grifo stringe ultimo tentativo con bremec poi lupatelli e o ginestra gli altri scusate gli arbitri donna perugini sul tetto vincono le arbitriadi da sisi all'urdi invece dopo la malattia aveva già detto no ha già parlato persona eccellente un uomo davvero forte forte di carattere forte dopo questa malattia contro questa malattia e adesso sembra grazie a dio e grazie alla grande scuola del maestro di questa materia che il professor massimo mantè martelli soglia lievi compreso falini e versa eccetera questo uomo potrà permettersi non solo di vivere ma potrà permettersi anche di fare un gesto grandissimo quello di andare all'urdi in bicicletta questa è la grande fede no l'ex primavera della lazio gubbio stretta finale per bollini torniamo qui l'ex primavera della lazio oggi si incontra con lo tito che gli offre la panchina del salerno mi pare che questi abbiamo dato tutto diamo un'occhiata se ci sono altri giornali che magari ci possono essere sfuggiti possiamo passare rapidamente ai giornali telematici qui c'è un ultimora spaccata con auto presso la tabaccheria san sisto nei pressi dei palazzi rosa il calciatore christian obodo eccolo vedete con forza anche a perugia con un blitz è stato liberato ora dell'eco è stato liberato nella sua terra con un blitz senza pagare nessun riscatto questo è quanto si sa poi aggredisce ferisce con un coltello fratello sorella arrestate arrestata francese arrestata francese incendio stroncone fiamme distruggono due ettari di bosco questo andrea giornal vediamo un po che cosa possiamo dare ecco qui questa interessantissima è una come dire una manifestazione che dovreste davvero visitare valo di nera prosegue l'edizione 2012 fior di caso tanto di per sé valo di nera è straordinaria metteteci questo e metteteci la bontà del formaggio no mi pare ci siano tutti gli ingredienti e poi la bellezza della ballerina umbria 24 nigeria christian obodo liberato in blitz niente riscatto grazie a dio sono libero così dice umbria 24 bastia donna rapinata con la figlia piccola finisce in manette pregiudicato napoletano perugia ragazza francese che dice con coltello due fratelli tunisini arrestata e poi volevamo darvi conto di umbria left ma questa mattina il loro portale fuori servizio forse per manutenzione tutto per questa nostra rassegna stampa del mattino buona giornata